Salve a tutti, oggi vi presento la Fuji F300 XR, un'ottima compatta di Fuji, ha un prezzo veramente relativo, lo zoom è un classico 15x per questo tipo di fotocamere, l'obiettivo è un 24-36mm quindi validissimo per la funzionalità macro, il flash in questa fotocamera compatta è a scomparsa, quindi nella funzione flash sale in automatico, dietro invece si trova l'LCD da 3 pollici, quindi molto ampio e le varie funzionalità, il menu per tutte le opzioni interne, il face detection, la riproduzione, la funzionalità video e la ghiera per le varie impostazioni fotografia o videocamera. Adesso l'accendiamo un secondo, nel vano batteria c'è sempre anche il vano per le memorie, ovviamente. Ora l'obiettivo e il flash si aprono in contemporanea, ovviamente perché è impostato già sulla funzione flash, come vedete l'LCD è molto luminoso, sulla parte laterale si trova l'attacco per l'HDMI e per vedere lo scarico delle fotografie. Dentro la confezione, come vedete, si trova anche il cavo audio-video, il cavo USB, la cinghia, la batteria e scusate il caricabatteria e la batteria è già dentro la confezione. Il software e i vari manuali, tra cui anche l'italiano. Ora la spengiamo e vedete che scompargono in automatica tutte e due. Ok, questa è la Fuji F300, come dicevo molto valida. Grazie a tutti e alla prossima recensione video.